Buonasera a tutti, siamo a Villa Cirillo e siamo in compagnia con il collettivo Opus Continuum, un gruppo di artisti partenopei e non che realizzano opere di arte figurativa. Abbiamo esposto le loro opere alla Casina Van Vitelliana riscuotendo un grande successo e riteniamo che quest'arte, queste loro qualità, si sposano bene con il nostro desiderio di rendere Bacoli una città di artisti che già da sempre Bacoli ha prodotto tra i suoi figli nomi importanti di artisti, ma oggi abbiamo bisogno di confrontarci con generi nuovi o comunque generi non presenti nella nostra città e l'arte figurativa a Bacoli non è presente. Allora saranno qui a Villa Cirillo per un anno e ci offriranno la loro arte, i cittadini potranno confrontarsi con loro e tutti i giorni potranno visitare questa mostra che conterrà opere sempre diverse. Salve, siamo un'associazione di artisti, pittori e fotografi Opus Continuum nata per promuovere l'arte figurativa contemporanea. Ringraziamo l'amministrazione di Bacoli per averci dato questa grande opportunità di poter mostrare le nostre opere e anche di poterci confrontare con tutta la cittadinanza. Ovviamente quando i tempi lo permetteranno organizzeremo eventi qui in Villa, conferenze, dibattiti e anche corsi e si avrà la possibilità di vederci all'opera. Abbiamo deciso di donare al Comune questa fotografia che è stata realizzata, sono ritratti fotografici rigorosamente in mascherina, realizzati durante la mostra di agosto in Casina Vambitelliana. Il fotografo Michele Di Lillo ha fatto in modo appunto per chiunque lo desiderasse di avere un ritratto ed è stato anche un modo per raccontare questi tempi. In genere i temi che noi trattiamo sono legati alla storia, ai miti e alle leggende del territorio, del nostro territorio. In questo caso il territorio flegreo offre un'ampia gamma di ispirazioni e il mito per noi non è una semplice revocazione antiquaria, ma una lente per leggere situazioni ed eventi reali dei nostri tempi. In questo caso l'evento che ha fatto in modo di realizzare quest'opera è stato chi dice che protetti non sia bello. Ricordiamo a tutti ovviamente che il periodo è duro, quindi l'importante è dare anche un messaggio di speranza. La vita continua e con le giuste precauzioni possiamo continuare ad andare avanti. Allora vi aspettiamo tutti i giorni quando la biblioteca è aperta, dalle 9 alle 19 potrete visitare le opere, guardare, ammirare le opere di Opus Continuum. Grazie a tutti.